Se avete bisogno di crediti passate da GoFIFACoins e con il codice Henry avrete un piccolo sconto, link in descrizione Oggi stranamente non ci vuole di mettermi il cappello Buongiorno ragazzi, siamo HenryLaz, bentornati in questo nuovo canale, oggi ragazzi siamo qui tornati con il secondo episodio delle FIFA Sniping Signori, per un nuovo episodio vi chiedo subito di lasciare mille mi piace come minimo E vi ricordo ragazzi che da quest'anno c'è una mail su cui mandarmi appunto le sniping Che cosa qui che vedete qui ovvero fifa sniping ita-gmail.com Quindi ragazzi non c'è bisogno che me le mandiate sui social Praticamente me le mandate su quella email là, io controllo se sono veramente sniping E poi le andrò a inserire ovviamente nei video Grazie videocamera per non mettermi a fuoco Dito questo ragazzi, ovviamente seguitemi su Instagram, installazza con due A finali E vado a salutare, vediamo l'ultima notifica ovvero di DarioConsales22 Quindi ciao Dario, ciao Bombe, mi raccomando ragazzi che dimmi su Instagram installazza con due A finali In altri ragazzi volevo dirvi che venerdì, sabato e domenica sarò anche io al Gaming Suite Insieme a tutti gli altri amici che avete già sentito che ci saranno anche loro appunto Quindi signori, a me non resta trova da dire e devo riportire con questo episodio delle FIFA Sniping Ragazzi visto che sono i primi episodi non abbiamo moltissimi sniping Anche perché praticamente FIFA è uscito ieri Quindi aspettiamo un attimo per avere un buon numero di sniping Però queste qui che c'è ragazzi sono davvero incredibili Partiamo subito ragazzi con Ruffier e Ruffier If Quindi nel primo team of the week è uscito Ruffier If 86 di overall Sicuramente ragazzi è un buonissimo portiere con 85 di tuffo, 86 di presa, 78 di rinvio, 88 di riflessi E 86 di ruo, che non so cosa sia come stazze Magari ragazzi fatelo sapere qui sotto con un commento E possiamo vedere che lo va a acquisire per 10.500 crediti Ora su Foodbin ragazzi non ci sono ancora i prezzi di giocatori Quindi sono andato a fare una mini clip sulla mia play per vedere a quanto sta realmente adesso Ruffier Quindi la faccio partire ora, eccola qui ragazzi Possiamo vedere che stanno offrendo 25.000 sui 20.000 più o meno quindi La carta la mettono a comprare ora 30.000 Si può offrire dai 25.000 ai 30.000 quindi è una sniping davvero davvero buona Non vi chiedo ovviamente 15.000 crediti come minimo Come sniping perché sarebbe un po' troppo difficile farlo ora come ora Però comunque 11.000 crediti ci sta, sono davvero buoni all'inizio di FIFA Quindi grandissima sniperata da parte tua bomber E c'è un like per Ruffier Altro snarmi ragazzi con, non è italiano però questo Troviamo CR7 Ovviamente 94 su questo FIFA Mettimi a fuoco ok Sul mercato ragazzi ha 129.000 crediti rega Praticamente è un giocatore regalato Quello che l'ha messo sul mercato gli ha detto Tieni Ronaldo io non lo voglio, tentalo te Ma come si fa a mettere Ronaldo all'inizio di FIFA a 129.000 crediti sul mercato Ma neanche il più coglioni di sta terra che gioca a FIFA se lo permetterebbe Ma in questo episodio i coglioni, anzi il coglione non è solo uno Ma sono ben due Perché infatti anche un altro si è permesso di mettere Ronaldo forse un po' più intelligente ma proprio di tanto così A 180.000 crediti sul mercato Prezzo iniziale ragazzi 180.000 crediti Compro ora 186 Con questa immagine ragazzi vi faccio vedere che praticamente era l'unico Sul mercato a un prezzo così basso ovviamente E con quest'altra immagine ragazzi invece vi faccio vedere Che appunto c'è Ronaldo il tempo anche è di 45 minuti Quindi significa che i giocatori per quella console Proprio non ci avevano crediti perché io me lo sono andato a comprare subito Sinceramente Ronaldo a quella cifra Però possiamo notare che comunque c'è Chi lo mette a 1.900.000, 1.800.000, 2.500.000 Diciamo che il minimo da questa foto possiamo intubire che è di 1.800.000 Questo qui praticamente è dato a metterlo a 180.000 crediti Un decimo praticamente lo andava a pagare Quindi signori questo video uscì qui Spero vi sia piaciuto come vi siete lasciate Un bel ragazzi cerchiamo di raggiungere Mille mi piace Buonissimo episodio settimana prossima delle sniping Mi raccomando ragazzi infiatemi le sniping a questa mail qui Quindi fifa sniping ita che c'è la gmail.com Mi raccomando ragazzi Anche se sono dei vostri amici Oltrote su gruppi ragazzi mandatemi lo stesso Non serve che siano vostre Ovviamente seguitemi su Instagram Instalazza con due A finali Attivate la campanellina Iscrivetevi al canale Sono quello che l'ha fatto Per i ragazzi Qui da ragazzi è tutto Bella